vediamo se possiamo mettere qualcosa devo recuperare un bel po' cazzo finisce subito l'annos in questa macchina ma ti sei messo in luce, bene allora ti sei decisa, non voglio che lui soffra fare il doppio gioco farà soffrire entrambi e ne uscirai male si è vero, risolvo stasera dimmi sei parte della famiglia adesso grande grazie dice che noi siamo la nuova generazione amici siamo in diretta dalla gara 5 buona fortuna porca di quella puttana di merda si sto cazzo fermo coglione c'è uno stomaco corrente come cazzo faccia sponda questi vostri blocchi, fatemi capire come cazzo faccia sponda questi vostri blocchi, fatemi capire buon 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 Grazie a tutti.